Grazie a tutti. Dalle 18.30 in poi gli alert si sono moltiplicati. A notte e fonda nell'hot spot si contavano oltre 100 persone. I flussi migratori non sono soltanto un problema economico, politico, di ordine pubblico, sono anche un problema di cuore, di accoglienza, di integrazione, di vangelo. La famiglia cristiana ha scelto di ragionare di questi diversi aspetti delle migrazioni proprio a Lampedusa sabato 7 ottobre. Lo fa interpellando le istituzioni, lo fa interpellando la Chiesa, la società civile. Intervengono tra gli altri anche Daniela Pompei, vicepresidente della comunità di Sant'Egidio, che tanto si è spesa per gli ingressi legali attraverso i corridoi umanitari. L'abbiamo intervistata appena fuori l'hot spot di Lampedusa. La necessità di implementare tante vie legali di ingresso. Questo è necessario. I corridoi umanitari hanno fatto entrare fino ad oggi più di quasi 6.500 persone, che è molto, ma non basta. Bisogna aumentare le vie legali di ingresso, reinsediamenti. Le persone che sono arrivate qui a Lampedusa e che rimangono in Italia, che vogliono rimanere in Italia, diamogli l'opportunità di rimanere regolarmente in Italia. Ma è necessario aprire vie legali di ingresso, perché se non si aprono vie legali di ingresso ci sarà sempre un flusso di illegalità. Sempre gli arrivi. Le crisi umanitarie ci saranno sempre, però è necessario trovare vie legali. Perché arrivano tante persone? Perché non si possono ottenere visti legali di ingresso. Quindi bisogna aumentare. Reinsediamenti? Sì. Ricollocamenti? Sì. Visti per motivi di lavoro? Sì. Visti per studio? Sì. Bisogna aumentare. Perché? Perché l'Italia ne ha bisogno. Luciano Regolo è il condirettore di Famiglia Cristiana. Il pontificato di Papa Francesco è stato segnato proprio da questa visita apostolica, la prima che lui fa, qui a Lampedusa, e ha sempre più dato voce agli umili, ai fragili. Quindi quel viaggio lì significava che era una delle sue priorità nel dare voce a queste persone, i migranti e soprattutto i suoi interventi continui. L'ultimo anche, diciamo, non dimentichiamo anche il suo viaggio apostolico, il più recente a Marsiglia, dove ha voluto iniziare questa sua visita proprio con un omaggio al monumento ai caduti in mare. Ha sempre parlato del Mediterraneo, che abbiamo trasformato da mare nostrum a mare mortum. Sono espressioni anche a volte molto forti, in cui il Papa esorta la cristianità a non limitarsi, diciamo, a non voltarsi all'altra parte, a non essere partecipi a questa globalizzazione dell'indifferenza, ma a rimborcarsi le maniche e concretamente aiutare questi fratelli che soffrono. Sono persone che fuggono, spesso ha ricordato anche quanto avevano sostenuto i suoi predecessori, perché Francesco si pone in linea di continuità con il Magistero. Pensiamo alla Populorum Progressio, dove Paolo VI indicava proprio il fatto che i nazionalismi sono incompatibili col concetto di vero bene comune, ma anche, diciamo, Pio XII, il quale fu il primo a dire che Giuseppe, Maria e Gesù sono stati i migranti e a paragonare appunto questo. Questo è stato un elemento anche molto forte, in cui Francesco ha cercato di spingere la cristianità ad assumere un proprio impegno. Paolo Lambruschi, inviato di avvenire, era già qua dieci anni fa, quel tragico 3 ottobre 2013, quando si verificò uno dei più drammatici naufragi qui nel Mediterraneo. Spesso il nostro sguardo si arresta a Lampedusa, si arresta ai barconi, si arresta al Mediterraneo, non siamo capaci di andare oltre. Ecco, la stampa cattolica ha avuto il ruolo di allungatore, se si può dire così, della vista di tanti altri colleghi, cercando di far capire che cosa succede a sud di Lampedusa, cosa succede in Africa, quali sono le cause che in questi dieci anni hanno messo in moto un flusso migratorio straordinario. In questi ultimi anni soprattutto non c'è mai stato tanto movimento nel mondo da parte di gente disperata, che fugge da guerre, persecuzioni, oppressioni, ultimamente anche dai cambiamenti climatici. Ecco, il nostro ruolo è stato e deve essere quello di aiutare la gente a capire quello che sta succedendo e perché questa gente si sta muovendo. Non è un lavoro facile, è difficile che la gente comprenda subito e che le coscienze si aprano volentieri, però è quello che dobbiamo fare, anche perché questi fenomeni migratori non sono provvisori, ma sono strutturali. Il mondo sta cambiando, questa è un'epoca di cambiamento, come dice il Papa, e quindi dobbiamo prepararci a raccontarla bene, senza mai perdere di vista l'umanità, sapendo che il mondo non può venire in Europa, non può venire a casa nostra, però dobbiamo capire anche quello che succede sulle rotte per cercare di costruire un mondo più giusto. Ecco, questo è il contributo che la stampa cattolica può, deve dare e ha dato, credo, in questi dieci anni dal naufragio del 3 ottobre 2013.